Addio fuori di pizza, la pizzeria gestita da persone con disagio mentale. Il contratto d'affitto è scaduto e la proprietaria ha chiesto un aumento a Pangea, Aurora e Melacavo, le tre associazioni che hanno sede nei locali di Via Ciardi. Noi eravamo già un po' predisposti a cambiare perché c'era stato un aumento dell'affitto e quindi il fatto della chiusura di tre mesi dovuta alla Covid ci ha aumentato i debiti. Come tutti non lavorando, quindi la decisione si è accelerata e noi ora il 31 di maggio chiudiamo definitivamente. Forse l'attività potrà riprendere a Iolo, dove l'associazione co-gestisce il campo di rugby. Noi facciamo i cammini in Italia, l'ultima creazione è stato il rugby, quindi per questo la vincita della gestione di Iolo e lì c'è uno spazio che molto probabilmente in collaborazione con i soci del rugby Iolo, con i tanti volontari, vorremmo che fosse quello il futuro dell'associazione Aurora, Pangea e forse me la cavo. Altrimenti ci sarebbe un momento importante per i soci utenti di sbalestramento, cioè dove si va. La domanda di questi giorni è cosa facciamo, dove si va. Avere una sede è fondamentale anche per le attività di socializzazione e quelle terapeutiche. Diciamo che si sperava in qualcosa di più da chi ci doveva aiutare. Ricordi c'erano tanti, che si è fatto tanti trofei, tante riunioni.